Musica Serie D test in famiglia per il gubbio in vista della gara casalinga di domenica con la San Giovannese Maggi prova fumante in difesa, tornano Romani e Cuccia a centrocampo, Perugia, Bisoli rispolvera, Fabinho per l'Avellino Promozione, il Fontanelle Branca pronta a ricevere la Real Pitulum Tiberis per la partita che potrebbe valere il salto in eccellenza Per l'occasione ingresso gratuito al Santa Barbara per tutti i ragazzi del settore giovanile e di loro genitori Buonasera, bene ritrovate l'appuntamento con l'informazione sportiva, il calcio e la Serie D in primo piano Con il gubbio che ha svolto nel pomeriggio al Barbetti un test in famiglia come potete vedere nelle immagini curate da Angelo Casagrande In vista della gara casalinga di domenica con la San Giovannese, solito 4-3-3 con sistema di gioco per Mister Maggi Che nella formazione degli ipotetici titolari ha schielato volpe tra i pali e difesa formata dalla novità fumanti a destra Marini Di Maio a coppia centrale e De Grassi a sinistra Centrocampo con croci regia e l'impiego nel ruolo di Mezzali, del recuperato Romane e del rigenerato Cuccia Contridente offensivo formato da Ferretti, Ferrimarini e Zuppardo Lavoro specifico a bordo campo per Conti e Buali A Bedù ancora non al meglio, sempre ai box, anche Calombo al pari di Proietti Domani altra seduta prima della rifinitura prevista per sabato mattina Intanto la San Giovannese ha perso ieri 1-0 in casa con il Fondi L'andata della semifinale di Coppa Italia di Serie D, con ritorno fissato per mercoledì prossimo in terra laziale Tre giorni dopo il match con il Rosso-Blu Si prepara anche il Città di Foligno, pronto domenica ad ospitare al Blasone il Poggi Bonzi Nel suo 4-3-1-2 il tecnico in bimbo confermerà fa per due in difesa Mentre in attacco recuperati sia Balistreri che Di Paola Pronti a partire dal primo minuto con Napolano alle loro spalle Preparativi in atto anche per il Città di Castello Pronto a ricevere al Bernicchi lo Scandicci Ancora 4-3-3 per mister Fiorucci, sempre orfano dello squalificato Missaglia Contridente offensivo formato da Bellante, Luparini e Dieme Seduta pomeridiana per il Perugia che sabato ospiterà il Curi Lavellino Per la 36esima giornata di Serie B Ai box a Taddeia, la Sane e Zapata Da valutare lo stato di salute degli acciaccati Mancini e Spinazzola La Bisoli sembra comunque intenzionata a schierare il 4-2-3-1 con gli Irpini In quella che diviene probabilmente l'ultima spiaggia in chiave playoff Difesa davanti al portiere Rosati composta da Del Pret a destra A volte Belmonte centrali e uno tra Spinazzolo Rossi a sinistra Centrocampo con Zebli e De La Rocca in mezzo Quindi il trio di tre quartisti formato da Guberti a sinistra Aguirre al centro e la novità Fabinho a destra a supporto di Ardemagni Designato anche l'arbitro si tratta di Vincenzo Ripa della sezione di Nocera inferiore Scendiamo in promozione per fare il punto sul Fontanelle Branca Ad un passo da un sogno che si chiama eccellenza Insieme per un sogno Il Fontanelle Branca è agli ultimi preparativi In vista della penultima giornata di campionato del girone A di promozione Per 90 minuti Che per forza di cose non saranno come tutti gli altri sin cui giocati La compagine Branca Iola è di fatti sempre più vicina alla linea del traguardo Ovvero al salto in eccellenza Per quello che può essere considerato davvero un miracolo sportivo Considerando che appena 12 mesi fa i bianco-blu erano in piena lotta Per il vertice nel campionato di prima categoria La sconfitta nell'ultimo turno nello sconto diretto al Borgioni con il Ponte Valleceppi Che ha meritoriamente conquistati 3 punti grazie alle reti Una per tempo di Marri e Ricciarelli Ha aggiunto peperoncino piccante nel menu della lotta al vertice A due turni dalla conclusione Nonostante l'ultimo passo falso I bianco-blu hanno sempre 3 punti di vantaggio sui perugini Oltre che sul lama Capace di battere a domicilio 2-0 il corciano E di restare così appaiato all'11 di pruni Per una corsa 3 sicuramente accattivante Ma che vede il Fontanelle Branca Detentore di un vantaggio di non poco conto A 180 minuti dal termine del campionato Domenica arriva al Santa Barbara La Real Piturum Tiberis Falalino di coda del girone E chiamata a far risultato per provare Ad evitare una retrocessione Che ad oggi sembra segnata Peraltro la compagina umbertidese Nell'ultime 5 gare Ha racimolato soltanto un punto Situazione che ha portato alle dimissioni Dell'ex tecnico Simone Pazzaglia E la nomina sulla panchina della prima squadra Del giovane allenatore gubino Leonardo Radicchi Promosso dalla formazione Juniores Per questo si prospetta un testacoda spigoloso E per nulla scontato Complici anche le squalifiche Di due pedine focali Come Marchi e Gambini Gli infortuni di Pierotti e Chierico E le non perfette condizioni fisiche di Panetta Che Lisarelli proverà a recuperare in extremis Una vittoria però potrebbe davvero Spalancare le porte del paradiso Ai brancaioli Visto che in contemporanea Si affrontano proprio le dirette contendenti Lame Ponte Valleceppi Ed in caso di pareggio in Alto Tevere L'aritmetica sorriderebbe Alla formazione gubina A cui comunque basterà incamerare Quattro punti tra Tiberis E l'ultimo impegno sul campo della Virtus San Giustino Per avere la certezza del salto di categoria E per dare ancora più vigore Ad una partita che può davvero segnare un'interannata La futura brancaiola Ha pensato bene di riproporre Una formula già utilizzata Nella prima gara casalinga Stagionale Denominata per l'occasione Sogniamo insieme L'ingresso al Santa Barbara Sarà completamente gratuito Per i ragazzi del settore giovanile E anche per i loro genitori Che potranno così accompagnare i loro figli A vivere quella che si spera Essere la giornata del tripudio bianco-blu Un'iniziativa che ha trovato il plauso Dei vertici del settore giovanile E di tutti gli allenatori Che hanno già provveduto A informare e sensibilizzare I loro ragazzi In vista della partita di domenica prossima Con fischio di inizio All'ore 15 Al fine di realizzare Un sogno dipinto di bianco-blu Basket al via Stasera i play-off in A1 femminile Con palla canestro femminile Umbertide Che alle 20.30 affronterà Al pala Zauli Battipaglia Per l'andata degli ottavi di finale Con gara di ritorno Fissata per domenica alle ore 18 Al pala Morandi di Umbertide In Cisilver regionale maschile Invece Perugia supera La pala Focciava Al diceppo per 57-53 In gara 2 Delle finali play-off Impattando la serie Sull'1-1 Domenica 17 Si torna sul parchè Del pala Cestellini Di Ponte San Giovanni Per gara 3 Ed occupiamoci di volley Di B1 femminile Mancano 4 giornate Per completare La stagione regolare Ma la TUM Perugia Ne disputerà 3 di partite Poiché l'ultimo turno Sarà di riposo Forzato Al fine di conquistare Un posto nei play-off Le Umbre sono quarta In classifica A ridosso del loro obiettivo Che è la terza piazza Detenuta ora da Bologna Che è appena Ad un punto più avanti Ma ha una vittoria in meno E deve anche riposare Prossimo impegno Per le Perugine Sarà la trasferta Di Montale Rangone Con le Emiliane Settime in classifica 12 punti sotto Rispetto al sestetto Di coach Bovari Si gioca sabato 16 Alle 18 Con le Perugine Costrette a vincere Per continuare Ad inseguire L'obiettivo play-off In campo Domenica Sempre nel girone C-Top Quality San Giustino Che proverà A riscattare la sconfitta Nelle derby Con Orvieto Nella trasferta Di Bologna Era l'ultima notizia Per questo TG Sport Che si conclude qui Grazie per averci seguito A voi Una buona serata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada